Buonasera, buonasera allo signori, benvenuto in questo ennesimo video del mio canale Emanuele Fazio slash Blue Shadow perchè probabilmente lo cambierò il nome e il canale e che dire, semplicemente in questo video abbiamo queste mezze aperte perchè ce le siamo mangiate patatine di poco posto e sprecarle così tante eh, infatti perchè non bisogna sprecare il cibo quindi la maggior parte ce le siamo mangiate e pure i soldi è questa chi può spiegare meglio l'unione tra queste due cose del mio compare il boia con gli occhiali allora che le vuoi le patate in prensa? eh, le porti tu allora potrebbe sembrare tutto intuitivo, no? una fionda prendi la pallina la metti dentro attento vedi cosa fai tu? tanto tu vabbè tanto queste le dobbiamo lanciare appunto va bene ma a cosa dobbiamo colpire? robe se avete notato sia io che il mio compare abbiamo una fionda tutte e due quindi staremo uno di fronte all'altro e cercheremo di colpire la palla che ha lanciato l'altro senza che ci vada tipo in testa o addosso ok la scansiamo all'ultimo momento va bene le due palline si devono si devono toccare si si devono scontrare in uno scontro epico bene cominciamo? cominciamo speriamo che vengano bene maestro mi vede ok ok ma pronti ma non mi faccia passare via c'è paura ma vabbè no perché ti tengo in faccia ancora l'altro 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 sono rotto direi di prenderne degli altri l'altro io potrei scopare tutti i pallet e io mi parlo con le pallet a me non è ripresa ancora 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 l'altro tempo scopare no via no secondo noi siamo stupidi su programma eh perché ci sono sempre le campane quando c'è una bassa alla metà pesa no ma dai 3 2 4 2 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 12 12 12 13 19 19 20 20 21 21 22 22 23 dei maschera, non me la farà arrivare in faccia, 3, 2, 1, via! Mi vuole uccidere! Mi vuole uccidere! Tu è una maschera, no? Sì, ma me l'hai mandato in bocca! Ehi, io passo! 3, 2, 1, via! Ma perché tu mi prendi sempre? Mi hai preso sul braccio! E pure tu! 3, 2, 1, via! Stavolta! Non mi prendi sempre la patatina, non mi prendi sempre la patatina, non mi prendi sempre la patatina! E si posizionavi! Ancora? Oh, chi va? Via! Dove ti ho preso? Abbraccio! È tutto un primo, eh! Sono 4 volte che mi abbraccio! Mi ho provato il braccio! Che ho passo! Eh, no, questa si è disintegrata, praticamente! Cioè, è una... E poi è un'altra da là! Vedi qua! No! Eh, andiamo verso il basso, eh! Motta! Verso il basso! Ma cosa? Verso il basso! Ne sarà senso così! 3, 2, 1, via! Ehi, avviciniamoci! Facciamo uno sconso! Uccidiamoci, va! Sì! Eh! Vabbè, siccome non ci riusciamo da quella distanza, avviciniamoci! Oh! Via! Ehi, basta! Andiamo a colpire qualcos'altro! È impossibile! Ok! Allora, prendi la telecamera e colpiamo qualcos'altro! Grazie! Sì, dato che è impossibile, vediamo... Allora, dici, boia! Bene! Il boia tenterà di affettare la pallina sopra il filo! Veramente! Cioè, non so se riuscite a vedere il filo! Io ci provo! Posso andare? Sì! Oh, merda! L'hai colpito! L'ho preso, però! Sì! L'ho preso! Posso dare un po' più di forza! No! Cerca di trovare le altre palline a terra così... No, ne provo un'altra! Ma è l'ultimo tentativo, poi un'altra cosa da colpire! Ok! Avvicinati al filo! Eh? Avvicinati proprio al filo così vediamo se la prendi di sicuro! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questa è attività paranormale, ragazzi! Questa è Ghost Adventures! No! 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 Bellissimo! Guardate! Una nuova opera d'arte contemporanea! Bene! E non c'è voluto niente! Eh! E guarda! Allora! Possiamo anche concludere qui! Vedo! Soddisfazioni! Ma certo! E stai fermo! Sto fermo! Ma non posso manco muovere! Ma viene con il fatto che non devo manco respirare! Eh! Va bene! Questa fionda ci ha regalato sorprese! Le patatine forse è meglio mangiarle! Sì! Ehm! Naturalmente continuate a seguirci sul nostro canale! Sul suo canale diciamo! Vieni qui! Sul canale Emanuele Fazio! Che potrebbe anche chiamarsi Blue Shadow! E dipende da come va! Dipende dai casi insomma! Siccome l'abbiamo girato prematuramente questo video! Allora! Vedremo! Vedremo! Va bene! Grazie! E ciao a tutti!